Ognuno di noi è invitato ad entrare nell'avvenimento della risurrezione, che risponde alla lunga ricerca di ogni uomo e dell'intera umanità. Se Gesù Cristo non è risorto, la nostra fede è vuota e inconsistente, ma poiché Egli è risorto, anzi Egli è la risurrezione, allora la nostra fede è piena di verità e di vita eterna. Così Papa Francesco nell'Omelia della Messa in suffragio dei Cardinali e Vescovi defunti nel corso dell'anno, celebrata nella Basilica di San Pietro. Tutti, ha spiegato il Papa, siamo chiamati a stare prima davanti alla croce di Gesù, come Maria, come le donne, ad ascoltare il grido di Gesù e il suo ultimo respiro, infine il silenzio, che si prolunga per tutto il sabato santo. E poi siamo chiamati ad andare alla tomba, per vedere che il grande masso è stato ribaltato, per ascoltare l'annuncio è risorto, non è qui, lì è la risposta, lì c'è il fondamento, la roccia, non in discorsi persuasivi di sapienza, ma nella parola vivente della croce e della risurrezione di Gesù. Molti dei volti dei nostri fratelli Cardinali e Vescovi defunti, ha concluso Papa Francesco, sono a noi presenti, ma ciascuno di essi è guardato dal Padre con il suo amore misericordioso.